Un'opera frutto di una lungimirante e continua attività amministrativa e politica che ha visto coinvolti diversi soggetti che hanno continuato a credervi portando il progetto fino in fondo. Molto importante è stato lavorare in sinergia. L'ha detto il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio nel corso della cerimonia della posa della prima pietra del polo tecnico nella nuova sede dell'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo del Molise ha collaterrato alto a Teramo. Il Centro assume oggi un ruolo centrale nel settore scientifico e della ricerca in ambito nazionale e internazionale, ha detto Marsilio e il nostro augurio è che nel prossimo futuro possa rappresentare con le sue nuove strutture un presidio strategico ulteriore a tutela della salute pubblica. Presenti tra gli altri il sottosegretario della Presidenza Umberto D'Annuntis il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto il consigliere del direttore generale dell'OIE Romano Marabelli il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Nicola Talterio il consigliere provinciale Beta Costantini al termine della benedizione del vescovo della diocesi di Teramo Atri Monsignor Lorenzo Leuzzi Grazie a tutti